Questa è la sveglia numero 7 e stavolta parliamo di, ma molto rapidamente, di un video di Emilio Villa Di Emilio Villa è il testo, ma il video è per la regia di Vittorio Armentano che abbiamo messo in rete con Gamma proprio ieri Questo video si intitola Image In ed è la rappresentazione per schegge e frammenti di quello che accade in uno studio di pubblicità a Londra nel 1969 Vittorio Armentano registra questa frenesia di lavoro e ovviamente frammenti quanto più possibile numerosi e significativi della Londra del periodo E dà un quadro abbastanza netto di cosa sia anche la velocità di sostituzione di un'immagine con l'altra La velocità di sostituzione di una merce con l'altra In questo c'è una furia metamorfica che per certi aspetti assomiglia alla potenza, all'energia di Emilio Villa nel prendere appunto la parola e sottoporla a un processo di modificazione costante di alterazione e di zdefinizione più che definizione Per una sorta di cascata di etimologie che si seguono e si susseguono Ma questo succede nel villa che conosciamo Il villa sostanzialmente legato alle tradizioni orfiche Quelle vere, non quelle dei mestatori degli anni Ottanta Ed è un villa che nella sua secchezza descrittiva e pessimismo di fondo In realtà in questo video non dà un'immagine fortemente legata agli strumenti linguistici di cui è maestro Ma dà del mondo che attorno e che la cinepresa per scatti e per montaggi rapidissimi offre Un quadro semplicemente negativo, semplicemente pessimistico Semplicemente concentrato su quello che già all'incipit definisce una sorta di sostituzione degli enigmi antichi Con una enigmaticità secondaria, seconda Di cui ben parla il saggio di Chiara Portesini che è legato alla proiezione Che non ha nulla a che vedere con la storia effettiva, reale Del processo umano, del processo antropico Che conduce, sì, al nulla Ma attraverso una serie di metamorfosi Possiamo dire, tra virgolette, nobili Che appunto il linguaggio registra Siamo nel momento in cui le immagini si sostituiscono alle parole E le immagini si sostituiscono alle esperienze In un contesto ormai mutato, cambiato E in mutazione ancora forte, costante Questo Villa lo registra appunto nel 1969 A due anni dall'uscita della Société du Spectacle di Guy Debord E lo fa a suo modo, ovviamente Con una, tra l'altro, capacità anche di arrivare a un ascoltatore Non particolarmente avvertito, non sensibile a questioni di mutamento linguistico E di mutamento antropologico, diremmo E accompagnando in maniera assolutamente pertinente Il lavoro di Vittorio Armentano Che, regista documentarista straordinario come è Riesce a mettere insieme la presa d'atto della realtà così come è E nello stesso tempo il linguaggio di questa presa d'atto Per come vuole che sia Cioè montato a scatti molto veloci Con una attenzione molto particolare ai dettagli E alla strumentazione in realtà dissipata Di forme continuamente variata Del suo linguaggio, che è appunto il linguaggio cinematografico Che sa essere benissimo, e questo documentario lo dimostra Che sa essere benissimo la prima vittima Il primo pericoloso strumento a disposizione di chi opera Perché può essere, ovviamente, o arma che ferisce O semplicemente vettore di un virus che non è più la parola Ma che è ormai il commercio Il sentimento dell'equivalenza anche delle merci E la complanarità di tutte le merci Sul piano della loro vendibilità e della loro spendibilità In questo i due sono perfettamente in sintonia Anche se non svolgono in maniera frontale un discorso critico Come invece appunto poteva succedere per i teorici Che si occupavano in quegli stessi anni Degli stessi problemi e delle stesse novità Che comunque una società ormai fortemente lanciata Verso ciò che noi siamo oggi presentava Il video si può vedere su gamma Quindi su gammm.org Questo è il sito E si riteneva fosse perduto Invece grazie all'interessamento di Aldo Tagliaferri Che è sempre stato e sempre è un punto di riferimento Inaggirabile e fondamentale per gli studi villiani È stato possibile reperirlo grazie a Vittorio Armentano Che ne ha fatto richiesta alla Cineteca di Bologna A tutti questi che ho nominato E a tutti gli altri che intervengono nel video Va ovviamente un ringraziamento a distanza Soprattutto a Emilio Villa Che ieri compriva i suoi 107 anni O li avrebbe compiuti Perché purtroppo non è più con noi Ma è con noi il suo linguaggio La sua appunto furia metamorfica Che riesce a tenere a bada in questo video E questo è uno dei motivi Per cui forse è ancora più interessante Accostarlo alle sue opere Buona visione